I carabinieri della stazione di Vietri sul mare insieme ai militari del nucleo operativo radiomobile di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza per resistenza pubblico ufficiale un 43enne napoletano. La pattuglia della stazione di Vietri impegnata in un posto di controllo ha intimato l'alta ad una panda sospetta con a bordo due soggetti. La vettura, dopo essere stata inseguita per le vie del paese, si è arrestata in un vicolo cieco. Il passeggero non ha opposto resistenza ed è rimasto nell'abitacolo mentre il conducente del veicolo è riuscito a scappare gettandosi in un dirupo posto nelle vicinanze ed allontanandosi a piedi verso un corso d'acqua. Le incessanti ricerche si sono concluse alle 17 quando l'uomo è stato rintracciato e bloccato nei pressi del binario 1 della stazione ferroviaria di Salerno, quello che conduce a Napoli, che lo stesso aveva raggiunto furtivamente a bordo di un pullman. Il 43enne è stato trasferito presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.